Il cascone di Valentino Rossi è ancora al suo posto, tutto il resto è in fase di trasformazione in piazzale d'annunzio dopo la prima settimana di lavori finalizzati a tramutare quello che fino a due anni fa era poco più di un incrocio in una piazza del lungomare di Levante a tutti gli effetti. Prima settimana di tre mesi di lavori col primo che è quello più impattante con interruzione della viabilità in quest'area che si protrarrà fino al 12 di maggio. Il della zona chiamata ad un sacrificio sull'altare di un prodotto finale che renderà l'area ben più attrattiva una volta accantonate le ruspe. Si tratta di un intervento che risponde ad una precisa richiesta degli albergatori e che mette a terra 500.000 euro del comune di Pesero rivoluzionando la zona con una piazza centrale vera e propria, un'arena per spettacoli, tante panchine e un cambiamento radicale sulla bicipolitana. Il tutto in un contesto molto più green con tante nuove piantumazioni. Il casco di Valentino Rossi rimane oggi come ultimo baluardo dell'area ma sarà spostato una volta che alla sua base si interverrà per realizzare una piscina con acqua sfioro che in qualche modo costruirà un'analogia con la sfera di pomodoro poco distante.